Senatrice, la sua prima esperienza su un'Ansa 303, l'abbiamo ripresa, attenzione perché abbiamo visto anche che aveva il timone in mano. È stato bellissimo e sicuramente è un qualche cosa che i ragazzi devono provare, sperimentare perché il senso di libertà quando sei in questa imbarcazione è immersa nel mare con il vento che senti spingere attraverso le vede, è un'esperienza unica e quindi sicuramente è una cosa che deve essere portata a conoscenza di questi giovani, di queste persone speciali e un valore aggiunto anche per le famiglie, un supporto magari che oggi non c'era e grazie a questa nuova attività, grazie a questa nuova iniziativa da qui in avanti si potrà godere ancora di più di quello che è il mare e di quello che è l'ambiente, di quello che è lo spazio aperto e di quello che è una nuova consapevolezza anche perché per i ragazzi poter prendere coscienza di quello che è il governare un'imbarcazione, un'autodeterminazione che forse non era così scontata. Bene, prima in conferenza stampa Umberto Verna ha detto questo è un corso ma vorrei che diventasse un percorso e lei giustamente ha interpellato la marina militare, la coinvolta insieme alla Lega Navale che ha organizzato questo bellissimo evento, porterete avanti questo progetto? Direi di sì, quello che è stato l'incontro di un anno fa che ha dato poi l'inizio a quello che è oggi questa prima uscita in mare ha provato comunque una mia richiesta ma ha trovato un terreno fertile e sicuramente ci sarà un terreno fertile anche per portare avanti questo percorso di cui lei faceva ceno, magari realizzando proprio un protocollo da poter essere esportato a tutte le altre realtà della Lega Navale a livello nazionale, quindi la spezia potrebbe essere proprio quel punto di partenza per far ripetere questa esperienza con i risultati che saranno anche sperimentati attraverso questa nuova attività ed essere quel punto di partenza per sviluppare maggiormente questa nuova iniziativa. Bene, per il momento grazie, l'aspettiamo alle prossime esperienze in mare e non ultima la nostra Golfo dei Poeti Cup a settembre, la vogliamo a bordo. Grazie a tutti i volontari, ricordiamoci che il grosso lavoro è fatto dai volontari, volontari che dedicano il loro tempo a queste attività, quindi va dato loro merito grazie anche alla Marina Militare perché in questa realtà di fatto molto contributo viene dato anche dalla Marina Militare. Bene, ragazzi, non scappate perché ora qualcuno l'ho intervisto, attenzione, non scappate.